Ridi, eh ridi Ridi, eh ridi Grazie per la seconda edizione della festa dei portieri di Circoi Ringrazio in particolare la gente del paese che ha collaborato a questa festa che spero riuscirà bene, abbiamo anche per fortuna il sole Ringrazio la banda comunale del M1 Ringrazio anche provincia e comune per il patrocinio Oggi ci sono varie attività, troverete i vari posti del paese comunque queste locandine Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.